Ciao ragazzi, eccoci insieme, anche se con una settimana di ritardo, con la solita sfida del risparmio 2017. Purtroppo nel discorso non sono riuscita a girare il video, perciò questa settimana sorteggerò la settimana 20, che è la settimana scorsa, e la settimana 21, che è questa di adesso. Quindi iniziamo subito, shakeriamo, shakeriamo, intanto vi chiedo come vi sta andando a voi, siete riuscite a mantenere il passo, io sono onesta, no. Infatti non vedo l'ora di prendere la tredicesima per rimpinguare il barattolino, però dai, sono abbastanza propositiva, ovviamente rispetto a come sta andando. Ok, allora, ho sorteggiato questa simpaticissima pillolina rossa che fa l'occhiolino, con un bigliettino rosa. Ora apriamo, e sono 20 euro, quindi ci sta, finalmente andiamo nella zona verdina. Allora, scriviamo, 20, questa era della settimana scorsa, quindi 20 euro per la settimana 20, quindi è corretto direi. È partita metà pillolina. Ora sorteggiamo invece per la settimana di adesso, allora, chiudiamolo, per la settimana 21. Pillolina a bordo, con bigliettino viola. No, 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 no. Che tristezza, ragazzi, non ce la puedo fare, ma proprio no, 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 no. Quindi sono 46 euro. ok quindi settimana 21 sono ben 46 euro vabbè io continuo a ripetermi ogni settimana finirà questa colonna prima o poi spero proprio di sì cioè ragazzi guardate da 1 a 10 euro neanche 1 ma neanche 1 1 0 vabbè niente incrociamo le dita e facciamo a c forza e vabbè tanto a giugno arriva la tredicesima che sarà tutta sua praticamente ok ragazzi vi saluto fatemi sapere a voi come sta andando rincuoratemi per favore e niente allora ragazzi ci vediamo al prossimo video un bacione a tutti buona settimana ciao ciao